Ai microfoni di Radio Sapienza, Andrea Bascucci, amministratore unico dell'azienda Newster. Qual è la missione della vostra azienda? Fornire del materiale tecnologico innovativo prevettato da noi che consente all'ospedale di diventare green. Perfetto. E può farci degli esempi pratici di progetti in corso, ad esempio il progetto in Mozambico? Qui stiamo presentando il nostro progetto che prevede l'installazione di una macchina che fa un trattamento di rifiuti sanitari solidi presso l'ospedale di Beira che permetterà a questa struttura di non utilizzare più un inseneritore di vecchio modello che brucia di ossina a cielo aperto per sfruttare una tecnologia ecocompatibile ed innovativa. Grazie mille e grazie per essere stato con noi a Radio Sapienza. Grazie a voi.